Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Insisteranno condizioni di tempo in generale stabile su gran parte delle regioni italiane. Un aumento della nuvolosità alta si avrà su quelle tirreniche e sul nord-ovest, con piogge via via più probabili. Il centro-sud godrà ancora di condizioni di bel tempo grazie ad un campo di stabilità sul Mediterraneo orientale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 24 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su entrambe le regioni. Nel caso del pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Basilicata e sulla Puglia settentrionale. Ma trattandosi di nubi alte e stratificate non si avranno fenomeni piovusi. Tempo stabile ovunque, anche in serata. Temperature stazionarie e oltre la media con punte di 20 gradi nelle zone interne. Soffieranno venti deboli moderati meridionali. Per quanto riguarda i mari, da calmi o poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Lacu per questo incantevole foto del tramonto sul bellissimo mare di Santa Cesarea Terme. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle pagine Facebook di Meteo One o Teleappula. Oppure le mail che vedete in sombripressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!